C'è anche un'arietta fresca qua sopra, devo dire la verità, quindi direi che ritorniamo giù e niente ragazzi, non ho altro da riprendere, anche perché ho già fatto vedere tutte le altre basiliche che avete visto qui ad Assisi. Quindi praticamente il mio ultimo obiettivo era questa, la Rocca Maggiore, e quindi direi ragazzi che per questo, per il video di oggi non è ancora tutto, chiuderò il video, questo video finale, all'agriturismo praticamente, che andremo stasera a mangiare. Quindi poi si chiuderà questo terzo giorno qui da Assisi, anche perché domani ragazzi non vedremo niente, proprio perché ci sarà l'assemblea all'inizio e poi chiuderemo con praticamente il viaggio di ritorno. Detto questo ragazzi mi fermo qua dai, procediamo e ci rivediamo stasera. Ciao a tutti, allora siamo pronti per affrontare l'ultima sera, l'ultima sera praticamente all'agriturismo ragazzi, ultima sera all'agriturismo. Avete capito bene, praticamente siamo giunti alla nostra quasi conclusione diciamo della nostra vacanza, non proprio ancora la conclusione perché come detto domani faremo l'assemblea, che quindi trarremo le conclusioni finali praticamente. E poi ci sarà appunto il viaggio di ritorno con tanto di pranzo, pranzo chiaramente che non è offerto, quindi giustamente è stato per l'andata e sarà altrettanto per il ritorno. Detto questo allora procediamo e godiamoci questa ultima serata all'agriturismo. A dopo! Buon appetito a tutti dai! Buon appetito! Buon appetito a Marco! Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questa serata, allora... Ciao Antoine, ti vedo, sì, sì, vi vedo, sì, eccovi, adesso vi vedo, ora vi vedo. Ragazzi c'era qua l'agriturismo, eccolo qua. Mamma mia, scappano tutti qua appena rifilmo ragazzi. Ecco qua, agriturismo, il podere... Eh, ragazzi, vabbè, a questo punto davvero, buona serata a tutti e ci vediamo mani per i saluti finali. Ciao a tutti! Eccoci qua allora, salutiamo praticamente tutto quello che abbiamo visto qua ad Assisi a partire dalla Bazzia di San Pietro che ci abbiamo lì davanti. Ciao Bazzia, ciao Torre del Popolo, là ecco la Torre del Popolo, là in mezzo. E ovviamente salutiamo anche lei, la Basilica di San Francesco, da Sisi, ciao Basilica, ciao a tutte, le campane, la Francesca, tutto quanto. Un saluto ovviamente anche alla Rocca Maggiore che si trova su, in alto, praticamente. Quindi partiamo questo viaggio di ritorno oggi per tornare in Svizzera. Prima tappa però sarà ovviamente l'autogrill perché ci femmeremo a mangiare qualcosa e poi proseguiremo con il viaggio. Quindi procediamo e farò vedere ancora qualcosa. A dopo! Allora Ecco. Svizzera 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci rivedremo tra poco per i ringraziamenti. Chi lo sa, non so se verrò filmato ragazzi, vi dico solamente questo perché non so se c'è qualcuno che mi filma. Vabbè, comunque. Detto questo, vabbè, noi procediamo e poi ci rivediamo con i saluti davvero finali. Quindi, procediamo. Bene, allora siamo giunti alla conclusione veramente di questa vacanzina, di questo giorno, questi... di questi giorni qua alla vacanzina di Assisi. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito. E da l'ora di 98 è veramente tutto. Commentate, accettate di like e iscrivetevi al canale, condivisione è molto importante. Noi ci vediamo davvero al prossimo video. Ciao a tutti e vai con ringraziamenti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.